Ragazzi ci si fa male con i cavalli, io ancora mi stupisco come mai ci sono delle persone che pur essendo alle prime armi prendano dei puledri o prendano dei cavalli sdome con il dire cresciamo insieme, quindi ricordatevi non sono giocattoli sono conigli di 500 kg, questi se decidano in qualsiasi momento per paura di travolgervi vi travolgono e non è che vi travolgano meno o di più a seconda se gli siete amici o no